Piero Peretti, in questa ricchissima domenica mattina aquilana c'è anche inevitabile lo spazio della protesta? Sì, questa è la prima protesta che facciamo in centro perché vogliamo evidenziare che il lavoro è la priorità assoluta di questa città. Dal 6 aprile non è stato fatto assolutamente nulla per quanto riguarda il tema occupazionale, nessun tipo di intervento di carattere statale, gli incentivi regionali, bonus occupazionali, non hanno ancora una rilevanza di vantaggio per quanto riguarda la provincia o meglio sono spalmati su tutta la regione quindi l'imprenditore è scettico e il restio ad investire nel nostro territorio. La zona franca ancora non arriva e allora in questo scenario pensiamo che l'obiettivo prioritario in questo momento sia quantomeno quello di salvaguardare i posti lavoro che erano preesistenti, cosa che purtroppo temiamo non sta accadendo. Infatti questa mattina siamo qui con i lavoratori della FMSPA, una delle municipalizzate aquilane, ci sono delegazioni di altre municipalizzate, ricordiamo che sono 600 i lavoratori interessati e in base alla nuova normativa nazionale queste aziende dovrebbero essere ristrutturate perché altrimenti rischiano di essere smembrate e quindi si rischia di perdere centinaia di posti di lavoro. Il Comune non ci ha dato ancora risposte concrete, alcuni dei contratti di servizio scadranno al 31-12 del 2010 e quindi i tempi sono strettissimi e è chiaro che i lavoratori ora temono che possano perdere il posto di lavoro e hanno deciso di manifestare in questa domenica. Siamo qui in quanto la FMS ha un atto unilaterale senza dirci le ragioni, senza comunicarci il perché ha chiuso improvvisamente il deposito medicinali. Questo significa che le farmacie municipali dell'Aquila saranno costrette ad acquistare i medicinali direttamente dai distributori nazionali a un costo naturalmente più alto in quanto verranno richiesti medicinali volta per volta che serviranno e contemporaneamente non potranno essere fatte delle campagne anche di promozione dei prodotti in modo da poter fornire dei prodotti per esempio per gli anziani a prezzi più bassi. Quanti posti sono a rischio? Al deposito lavoravano quattro dipendenti che poi verranno a detta dell'amministrazione rispalmati sulle farmacie però non capiamo qual è il risparmio che si ha visto che i dipendenti del deposito si pagavano da soli con il plus valore che veniva fatto dal deposito e che in questo caso poi andrà invece a distributori privati. Noi temiamo che il risparmare questi dipendenti sulle farmacie produrrà un calo di competitività delle farmacie comunali rispetto alle altre e quindi diventeranno antieconomiche con la possibilità che a quel punto il comune sarà costretto a venderle.